Le domande vanno inviate entro le ore 12 del 31 gennaio 2018. Assunzioni RAI 2018, oltre ai concorsi pubblici, per i giovani italiani c'è anche la possibilità di trovare lavoro nella TV di Stato. Ebbene sì, dopo tanto tempo, la RAI ha previsto l'assunzione di 50 nuovi profili diplomati e laureati. La società è strutturata in diverse aree, la prima è quella editoriale Radiofonia, editoriale TV e editoriale Nuovi Media che hanno il compito di sviluppare e realizzare i programmi ed i canali televisivi radiofonici, satellitari e su piattaforma digitale terrestre e Nuovi Media. La seconda è l'area di staff che controlla l'efficienza gestionale, economica ed operativa dell'azienda. Infine, c'è l'area commerciale che si occupa di realizzare la strategia multimediale, digitale e commerciale dell'azienda. Per il 2018, la RAI ha deciso di indire un concorso per la selezione di 50 nuovi profili da assumere per le varie sedi. I profili ricercati dalla RAI sono i seguenti, 40 diplomati tecnici, tecnici della produzione e tecnici ICT e 10 laureati tecnici e tecnici ICT. I requisiti richiesti per i diplomati sono, essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore conseguito presso istituto tecnico industriale, istituto tecnico settore tecnologico, istituto professionale e liceo scientifico. I requisiti richiesti invece per i laureati sono i seguenti, essere in possesso della laurea magistrale o laurea specialistica in ingegneria elettronica, ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni, età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni ed essere in possesso della patente di CAT. B. Coloro che fossero interessati a lavorare nella RAI devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2018. Per verificare nello specifico le caratteristiche dei profili richiesti e inviare la vostra candidatura basta andare sul sito della RAI e cliccare sulla sezione RAI Lavora con noi.